Quasi 500 milioni per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni. Il finanziamento è arrivato dalla Regione Toscana e rappresenta un tassello fondamentale per l'edificio di Via Trieste, dove a poche ore dal suono della prima campanella si era verificato il crollo del soffitto e del controsoffitto in un'aula. Ieri l'annuncio del rientro in sede per gran parte degli studenti, ad eccezione di quelli dell'indirizzo moda, è adesso un'altra buona notizia. Nello specifico saranno erogati 477.660 euro, consentiranno di mettere in sicurezza alcuni locali e di migliorare dal punto di vista sismico il blocco D del Plesso. Il contributo arriva direttamente dalla Giunta Toscana, che è attinto da risorse proprie a favore dell'amministrazione comunale e proprietaria della struttura, nell'ambito di un pacchetto complessivo per interventi indifferibili ed urgenti sull'edilizia scolastica, da quasi 2 milioni e mezzo di euro varato nello scorso dicembre. La riqualificazione dell'edilizia scolastica è una delle priorità di questa amministrazione regionale, ha spiegato il presidente Gianni, e il finanziamento degli interventi costituisce una tappa importante del percorso che stiamo compiendo per rinnovare e dare più sicurezza al patrimonio di edilizia scolastica pubblica in tutta la Toscana. Destinare risorse alle scuole non è un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori, ha poi concluso l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini. Grazie. Grazie.